Tra stretti vicoli, case arroccate e campanili, l'Italia dei borghi regala posti e scenari mozzafiato che spesso richiamano un'atmosfera affascinante e lontana. L'Osservatorio Trivago ha stilato la classifica dei 20 borghi più ricercati dagli utenti nazionali nell'ultimo anno, raccogliendo così una selezione di vere e proprie perle disseminate su tutto lo stivale, a guidare la graduatoria e la salentina Otranto, seguita dalla laziale Sperlonga e dalla siciliana Cefalù, scorrendo ulteriormente la toppa a confermare il suo fascino, il piccolo borgo di Castellabate che si piazza al quarto posto. Il comune di Benvenuti al Sud si distingue ancora una volta per le sue acque cristalline e il suo paesaggio mozzafiato. Tra l'altro, il comune di Castellabate fa parte dell'associazione Città del Bio e del club I borghi più belli d'Italia, meta di turisti di diverse nazionalità che ogni anno giungono numerosi nel piccolo borgo. Lo scorso anno Castellabate è stata premiata anche dalla FE con la bandiera blu 2016 per le spiagge di Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo, San Marco, Punta Inferno e Baia Oiastro. Così il comune di Benvenuti al Sud risulta essere, secondo i dati di Trivago, uno dei borghi italiani più ricercati. Un'altra località campana molto apprezzata è Vietri sul mare, che si colloca al settimo posto. Trivago è un metamotore di ricerca online che confronta prezzi di hotel, B&B, ostelli e altri tipi di strutture. Nato in Germania, appartiene al gruppo Expedia e confronta le tariffe alberghiere di hotel, analizzando le fonti web. Il portale raccoglie inoltre le opinioni dei clienti su alberghi e attrazioni turistiche.